Allora, benvenuti. SOS Proxy è un tool e allo stesso tempo racconta un po' quella che è la storia di un'attività che ho svolto durante il mio lavoro, perché io a differenza di Alessandro, se cercate il mio nome su Google trovate solo brutte cose. Allora mi presento molto brevemente. Mi chiamo Lorenzo Comi, sono un security consultant, lavoro in minded security e diciamo che quello che facciamo è sostanzialmente rompere applicazioni web e rompere dispositivi, IoT, fare un po' gli hacker. Ovviamente in senso positivo, perché poi riportiamo le vulnerabilità ai produttori e via dicendo. Sono anche un amante del Python e dell'automazione. Tutto ciò che è un noioso da fare, io cerco di scriptarlo o di renderlo automatico. E questo è uno di quei casi, insomma, questo tool che nasce un po' da questa esigenza. Sostanzialmente, ecco, questo è un po' come la penso io. Parto sempre con l'idea di partire e dire faccio un bel progetto, ma poi finisce sempre in collage, stack overflow. Insomma, è una storia un po' così. Però, perché sono qui? Prima cosa, innanzitutto parlarvi di come intercettare il traffico HTTP che viene generato da quello che può essere un device sul quale noi non possiamo esplicitamente configurare un proxy. Voi sapete che su device come i nostri telefoni sono abbastanza intelligenti, per cui se gli dico, vedi che questo è il proxy dal quale tu devi far passare il tuo traffico, lui dice, ok, fa passare tutto il traffico da lì e se io sono un attaccante e riesco a intercettarlo, leggo tutto quello che voi fate, mandate, eccetera, col vostro telefono. Questa è una tecnica per fare un po' realizzare questa intercettazione, riuscire a mettersi in mezzo tra device e quello che è internet o quello che è l'host col quale vuole comunicare il dispositivo, senza appunto che questo device abbia un'impostazione per fare ciò. Il tutto poi si sviluppa con il tool che ho scritto, che automatizza i vari step di questa tecnica. Allora, sostanzialmente il problema è questo. Arriva un'attività in ufficio e mi si dice, ok, questo è un device, devi fare un pen test su questo device, comunica in HTTP, benissimo, allora io lo guardo, lo accendo e dico, ok, ma dov'è il proxy per intercettare? Eh, no, non c'è. Come non c'è? E questa è la mia faccia. È un problema perché noi siamo ciechi, noi non sappiamo quel device con cosa comunica e come comunica. è un problema e lo dobbiamo risolvere. Vi anticipo che non c'è una soluzione definitiva, cioè non c'è una soluzione per ogni casistica, però c'è una tecnica appunto che si chiama invisible proxing che ci permette appunto di riuscire sotto determinate circostanze, in determinati casi, a intercettare il traffico di un dispositivo. La tecnica è ben descritta da un articolo che è stato realizzato da Post Swigger, sono gli autori del tool BARP. Quanti hanno già sentito nominare BARP? Ok. Per chi non l'ha mai sentito nominare, immaginate un software, un proxy di fatto, al quale noi possiamo redirigere il traffico HTTP di un dispositivo, del nostro browser, di qualsiasi cosa parli in HTTP, e questo tool ci permette di analizzarlo, di vederne gli header, di vederne l'URL, di intercettarlo, per cui di stopparlo prima che vada al server finale, di modificarlo, e tutta una serie di operazioni che nel campo del pen testing web, pen testing applicativo, sono all'ordine del giorno. Per cui abbiamo questa tecnica. Come la implementiamo? Come la sviluppiamo? Innanzitutto ci serve un setup, ci serve un mini laboratorio. Come vi dicevo prima, abbiamo un device, e poi abbiamo un computer, il computer dell'attaccante, dal quale creiamo un hotspot, in questo caso, diciamo, ad esempio, un hotspot Wi-Fi. Supponiamo che il nostro dispositivo sia, che ne so, un tablet o un telefono, ok, che ha un dispositivo Wi-Fi, con attività Wi-Fi, per cui creiamo un hotspot, agganciamo il nostro dispositivo a questo hotspot, in questo modo il nostro computer diventa il gateway per quel dispositivo, diventa anche il DNS provider, quindi tutto il traffico del dispositivo inevitabilmente passerà dal nostro PC. Quindi step numero uno. Dopodiché, sullo stesso PC, noi installiamo BARP, che è il nostro proxy. Ora, quello che non riusciamo a fare è a dire al dispositivo di andare direttamente a parlare con BARP. Cosa vogliamo fare? Vogliamo che il dispositivo parli con BARP. Con BARP noi possiamo analizzare il traffico e poi lo rimandiamo correttamente ad internet. Ritorna la risposta da internet, la rimandiamo tranquillamente al nostro dispositivo, tutto torna, noi abbiamo il traffico, siamo felici. Ora, se un dispositivo, appunto, come vi dicevo prima, non ha questa impostazione del proxy, noi non riusciamo a mandarlo verso BARP direttamente. Però, cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto, come vi dicevo, tutto il traffico del device passa dal mio PC, comprese le sue richieste DNS. Il DNS, sostanzialmente, cosa ci permette di fare? Ci permette di sapere quale dominio il device sta contattando, cioè qual è l'endpoint finale con il quale il nostro device vuole andare a parlare. E noi questa cosa la possiamo vedere, possiamo intercettare le richieste DNS, sono in chiaro, ovviamente, per cui sappiamo esattamente quando eseguiamo un'applicazione su un device che può essere, ad esempio, Android o un tablet, eccetera, chi, quale dominio, sta andando a contattare. Questo è il primo punto, capire con chi vuole parlare il nostro device. Secondo punto, per poter redirigere il suo traffico, dobbiamo fare in modo di creare una sorta di interfaccia virtuale sul nostro computer, nella quale andremo a mappare quello che è il dominio che il nostro device vuole andare a contattare. Alla fine di tutto questo giro, dobbiamo creare anche quello che è un proxy listener all'interno di BARB, ovvero uno strumento all'interno del nostro software per intercettare, che dica, io mi sostituisco, mi metto in ascolto sull'interfaccia di rete virtuale, e aspetto che il device mi contatti, in modo tale da rubargli poi il traffico. È abbastanza elaborato e complesso. Scendiamo un attimo, un pochino nel dettaglio tecnico, di come si fanno queste cose, i vari passaggi. Allora, numero uno, intercettare quelli che sono le richieste DNS. Il tool classicone, TCP dump, molto semplice, una riga di comando tranquillissima, per cui io specifico la VLAN 0, che è l'interfaccia sulla quale ho creato l'hotspot, poi gli dico come filtro, vedi che devi tenere solo l'UDP, e le richieste che vanno sulla porta 53, perché è quella con il quale il DNS parla solitamente. E in più, per filtrare ancora meglio, gli do quello che è l'indirizzo, l'indirizzo IP del mio device, che in questo caso è 1042.0228. E nello specifico ho fatto una prova, tutti quelli che vedete sono i domini che sono stati contattati dal device. Ci sono tante cose di Google, perché il dispositivo in questione è un telefono Android, tra cui c'è il target, il nostro dominio di interesse per il quale vorremmo intercettare il traffico. L'ho messo in grassetto, è il corriere.it. Quindi il nostro scopo da attaccanti, da tester, è quello di intercettare il traffico che parte dal dispositivo e va verso il corriere.it. Step numero uno, DNS. Sappiamo che il device chiama il corriere. Benissimo. Step numero due, creare un'interfaccia virtuale. Anche qui, un semplice comando. Con ifconfig posso creare un'interfaccia virtuale su una fisica, molto semplice, e gli assegno un indirizzo IP. Arbitrario, 100, 100, 101. Molto semplice. Ifconfig tra l'altro è stato deprecato ultimamente, però si può usare IP. Stessa cosa. È facile o uguale. Terzo passo. Devo sapere però chi è corriere.it, qual è il suo indirizzo IP, prima di andare a modificarlo e a redirezionarlo. Per cui faccio un look up di quel dominio e scopro che corriere.it ha come indirizzo IP pubblico 151, 101, eccetera. Questo mi serve poi per far tornare, forwardare la richiesta nella maniera corretta e poi aspettarmi una risposta. A questo punto modifico il mio file etch.host che per chi non lo sapesse è il file che si occupa di risolvere i nomi. Assegna ad un nome di dominio un indirizzo IP detto proprio in parole povere. E quindi qui nel mio caso specifico io assegno l'indirizzo IP 100, 100, 101 al dominio www.coriere.it A questo punto cosa succede? Prima di parlare di come configurare BARP rimaniamo qui e cosa succede? Che quando il device richiederà di nuovo che indirizzo IP ha corriere.it il mio computer dal quale passa tutto il traffico risponderà beh l'indirizzo IP è 100, 100, 101. Siamo pronti a configurare il nostro BARP per cui aggiungiamo un nuovo listener lo 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 aggiungiamo sulla porta 443 questo perché perché io mi aspetto che la connessione sia in HTTPS quindi cifrata e quindi tipicamente vada a finire su quella porta e poi gli dico giustamente che l'indirizzo IP sul quale deve mettersi in ascolto è il 100, 100, 101. Sotto in basso a destra trovate anche il redirect quindi l'indirizzo IP vero a cui BARP deve inoltrare la comunicazione a questo punto ce l'abbiamo fatta cioè il nostro device fa delle richieste e io tramite BARP riesco a intercettarle grande vittoria ok però qual è il problema? che questa cosa non scala cioè nel senso io vi ho fatto vedere tanti passaggi fatti a mano va bene farli a mano quando abbiamo un dominio due domini ma quando ne abbiamo 40 cioè è un po' lunga è un po' noiosa e da qui l'idea automatizziamo automatizziamo con un semplice tool scritto in python python e bash e un po' di cose così e quali sono le sue caratteristiche ovviamente tenere d'occhio le risoluzioni di DNS di un device quindi la parte di TCP dump che abbiamo visto prima creare in automatico un'interfaccia per ciascun dominio che viene che viene loggato dal domain monitor stamparci delle informazioni su come configurare il nostro proxy in BARP e poi due feature un po' più particolari che sono una modalità interattiva che ci permette di scegliere quale dominio intercettare e quale no questo torna utile mi è tornato utile diciamo quando dell'intero dispositivo volevo intercettare solo particolari domini pensate a un telefono io voglio lavorare solo su un'applicazione non mi serve intercettare tutte le comunicazioni di quel telefono ma voglio intercettare solo quelle di quell'applicazione quindi questa modalità mi permette di dire questo dominio si quest'altro no infine la possibilità di fare un backup e un restore della configurazione in modo tale che se io chiudo il pc alle 6 di sera e me ne esco dall'ufficio il giorno dopo ritorno posso ritirare in piedi tutto questo ambaradan senza il minimo sforzo senza dover reintercettare tutto quanto una piccola demo di questo tool per farvi capire l'automazione ok allora qui vedete l'hotspot io ho creato un hotspot che si chiama Samaritan quello è un android un telefono ovviamente questo telefono ha la funzionalità di proxy però adesso vi farò vedere che io la disabilito ovvero imposto come proxy il nulla ecco qua metto a non quindi in questo momento io sto dicendo al device vai tranquillo verso internet senza passare da nessun proxy avvio il mio tool come parametri gli do la vlan sulla quale c'è attualmente acceso l'hotspot l'indirizzo ip del device e la modalità meno a che mi permette di dire yes or no al dominio che voglio intercettare l'esempio è sempre quello del corriere per cui io dal device ora sto andando a richiedere il sito del corriere è partita la richiesta dns insieme alle altre a me interessa solo corriere quindi inizio a dire no no anche a google corriere sì lo voglio intercettare benissimo il tool ora mi sta stampando le informazioni che mi servono per configurare il mio proxy per cui adesso questo vi fa anche capire quanti domini vengono contattati da un telefono android appena aprite un browser a me non interessa nulla di tutto ciò mi interessa solo il corriere quindi vado a configurare la porta 443 vado a configurare l'interfaccia come mi dice il tool il redirect all'ip vero ok tutti i parametri vari qui imposto anche il certificato il nome certificato uguale questa è una cosa non è obbligatoria però alcuni domini impazziscono per cui ogni tanto va messo ogni tanto no e quindi ora refreshando riesco a intercettare il traffico sto fregando il dispositivo mi sono messo tra lui e il corriere riesco a intercettarlo riesco a modificarne il traffico riesco a fare tutte le mie analisi che vorrò fare e questo visti tutti gli step di prima questo il mio tool praticamente li fa in automatico sostanzialmente adesso rimettiamo così ok SSL ho sentito una parola SSL SSL allora questo tool non è la mana dal cielo allora ci sono delle condizioni prima parlavo di precondizioni per l'SSL la condizione è ovviamente che sul device ci sia installato un certificato custom che è quello di bar ovviamente un'altra delle condizioni è che se il device non usa il DNS ma va diretto sull'IP siamo fregati uguale se ha arcodato un IP non posso usare il DNS mentre se siamo nella condizione DNS e no HTTPS oppure riesco a installare un certificato questa tecnica funziona prima di chiudere vi lascio con delle idee un'estensione di barp per automatizzare anche l'ultimo step cioè la creazione del proxy non ho la più pallida idea perché non ho avuto tempo per documentarmi se esiste o meno un API che permetta di farlo però potrebbe essere un ottimo sviluppo futuro DNS poisoning potrebbe essere un'idea ovvero al posto di realizzare il cambio sul mio computer in locale posso poisonare direttamente la risposta My PyAll PyAll sì ho sentito sì si potrebbe integrare sì 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 vado adesso ok l'SSL ok mi hai risolto prima se non hai una CA installata dentro il device l'SSL non funziona e l'altra domanda invece era se conosci PyAll allora Sni sì sì ne ho sentito parlare non i dettagli però sì cioè l'idea è che io ho pensato anche a una cosa con la libreria Scrappy di Python per cui fare una cosa proprio tutta in Python e al volo quindi loggo e poi modifico on the fly è un'idea purtroppo non ho molto tempo quindi ok e l'altra idea è Python 3 perché attualmente il tool è in Python ancora 2 ma purtroppo andrà a morire poverino mi dispiace e quindi l'idea era portare il tutto a Python 3 e poi ovviamente qualsiasi idea è più che ben accetta il tool è su GitHub potete scaricarlo potete fare quello che volete è libero spero che possa essere d'aiuto a qualcuno a qualcuno che magari fa il mio lavoro o a qualcuno che vuole provare questa tecnica che magari non la conosceva prima vuole provare a metterla in pratica a me ha risolto molti problemi soprattutto quando al lavoro ci arrivano device a caso e ci dicono testateli quindi se non ci sono domande io vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti